Non un appunto nei confronti di qualcuno, ma una semplice premura finché non accadano più tragedie come quella di Suviane in Emilia-Romagna, costata la vita a sette lavoratori. L'On. Luciano D'Alfonso ha presentato nei giorni scorsi una dettagliata interrogazione parlamentare rivolta a diversi ministeri competenti per sollecitare non solo attività di verifica sulle condizioni in particolare di diversi invasi in Abruzzo, ma anche per chiedere il coinvolgimento diretto in queste attività di Enel. Dopo i noti fatti del 2017, le relative verifiche strutturali su più importanti invasi della nostra regione, vedi la diga di Campotosto, è rimasta una consistente porzione di centrali che deve essere ancora controllata. Quali sono le loro condizioni? Quali sono le condizioni di tutte quelle strutture che portano acqua? Bisogna poter procedere in anticipo, secondo D'Alfonso, per evitare che si ripetano tragedie come quelle dei giorni scorsi in Emilia-Romagna. Ho fatto interrogazione in Parlamento ai ministeri competenti in maniera tale che anche Enel faccia la sua parte, poiché Enel è il destinatario di queste notevoli consistenze di convenienze idroelettriche. E non va bene che l'invaso quasi escluda la competenza verificatoria da parte di Enel. Nello specifico dovrebbe essere Green Power, Enel Green Power. Però noi vogliamo che l'ordinamento significativo di Enel si faccia carico anche di corroborare, di collaborare per le attività di verifiche non distruttive sulla condizione di funzionamento di queste strutture che hanno prodotto accumulo di acqua e con l'accumulo di acqua hanno generato anche rinvenimento di energia idroelettrica. Non devono accadere i fatti gravi per poter procedere a ciò che si deve in termini di precauzione. Intanto in questi giorni, passando da un argomento all'altro, si parla insistentemente di un suo coinvolgimento diretto alle prossime amministrative a Pescara a sostegno del candidato a sindaco di centro-sinistra Carlo Costantini come aspirante consigliere comunale. Io ho dato la mia disponibilità al partito, alla mia comunità politica, dicendo che tutte le figure istituzionali dovevano, potrebbero scendere in campo per aiutare l'offerta politica ed amministrativa che noi vogliamo rendere vincente. Ho dato la mia disponibilità e ritengo che sia stata data anche dalle altre figure elettive. Penso ai consiglieri regionali e ai consiglieri provinciali. In questo modo si farebbe un lavoro di completamento che a mio avviso darebbe un grande significato e una grande spinta all'offerta di Carlo Costantini, sindaco. Questa sarà una campagna elettorale che comincia nel 2024 e a mio avviso terminerà nel 2027.